Se posso aggiungere una cosa che mi è venuta in mente, io credo anche che ci sia questa tendenza, forse molto attuale, di riconoscersi solo nel malessere, di ritrovarsi solo in qualcosa che non funziona. Quindi la tendenza dell'individuo ad autocrearsi queste gabbie, queste somatizzazioni, queste negrosi, il corpo sembra un terreno perfetto per seminare questo tipo di disagio e dare dei frutti che a volte sono così reali, più reali del reale, in verità poi appunto sono tutti parti della nostra mente, infatti sono attraverso quella. Però non so se a voi è mai capitato, ma nei momenti in cui tutto va bene, io un po' saranno mesi che ogni giorno ho qualcosa, tipo l'altro giorno avevo una scella un po' gonfia, mi sentivo una ghiandola, appena mi è passata mi è andata la tosse, quello anche perché fumo, però appena mi è passata la tosse mi faceva malore, proprio perché ti riconosci, ti senti quando il corpo non funziona, hai la prova evidente che il tuo corpo c'è e se invece questo corpo funziona perfettamente, chi sei? Non riesci più a identificarti, chi sei tu? Tu ormai la tua identità l'hai legata a un corpo che comunque è causa di rischio, causa di morte, causa di collasso ed è molto interessante questa cosa, inoltre viviamo in un'epoca dove anche fare l'amore è rischio di morte, per cui se ci pensate una delle cose più belle del mondo è una cosa che a volte si può pagare con... e quindi anche le cose belle, le cose che ti piacciono, lei parlava dei dolci, io sono un appassionato di dolci, mangi dolci e poi che cosa succede? Il piacere di una sigaretta e però poi ecco, quindi la difficoltà a convivere pacificamente con un corpo che tutto sommato funziona e non dà problemi, ecco io credo che tutti noi ci preoccuperemo seriamente nel momento in cui il nostro corpo funzionasse perfettamente senza nessun tipo di... ci siamo identificati insomma, no? In un corpo... Io credo...